salve a tutti quello che sto per dirvi è molto 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 semplice estremamente semplice ipotizziamo che putin e i russi diciamo putin compri avesse già comprato il messico e il canada non sono cose strane l'alaska è americana semplicemente perché gli americani l'hanno compratelo al canada se putin avesse comprato il messico e il canada avrebbe già messo un milione di soldati russi al confine tra il canale e stati uniti un altro milione al confine tra il messico e stati uniti sono cose normali normalissime che accadono da millenni dopodiché sarebbe bussato bussato al presidente degli stati uniti bidet e gli avrebbe detto caro bidet ora io ti faccio un discorso a tuo vantaggio io c'ho un milione del nord un milione del sud ti dico che non ti attacco non ti attacco bene però tu mi vendi il petrolio gratis e dici così siamo buoni amici questo quello che accade dappertutto in tutto il mondo anche in piccolo non solo in grande la violenza di per sé non è fine a se stessa quando è usata dagli organismi internazionali dai grossi organismi perché viene usata semplicemente come metodo per essere agevolati nelle trattative cioè metodo di controllo della trattativa metodo per sedersi al tavolo in posizione di forza in quella che è la più grande guerra di tutte quella la guerra mediatica quindi semplicemente i russi non vogliono avere gli americani al confine i russi hanno detto e che palle avevamo un grande accordo alla fine dell'unione sovietica in cui l'occidente non si sarebbe allargato oriente e non l'ha stato rispettato questo accordo cioè il grande accordo era che non avrebbero non si sarebbe preso la nato l'occidente gli stati uniti la polonia e putin gli ha lasciato la polonia e si sono presi l'ungheria e putin gli ha lasciato l'ungheria e si sono presi bulgaria romania tutto tutto sono presi tutto addirittura si sono presi lituani estonia e lettonia che sono confinanti con la russia anche se un piccolo fine e però quando gli stati uniti la nato hanno detto ma ci prendiamo pure l'ucraina e no ucraina cazzo c'è un confine lungo con la russia è stato obbligato putin a reagire perché erano prossimi all'accordo per cui soldati americani potevano scorrazzare al confine russo è stato obbligato dall'occidente molto semplice niente di strano da capire banalità questo è una banalità un'altra banalità estremamente banale cosa faranno adesso i russi niente niente di speciale faranno quello che da 70 anni fanno gli stati uniti cosiddetti americani buttano giù un governo con un amico ne mettono su un governo amico semplice quello che fanno da sempre gli stati uniti con il benestare con il con il placet dei mass media loro servi molto semplice quello che hanno fatto con iraq con italia con tutto con addirittura in italia fanno così da padroni che i loro aerei sfrecciano e tirano giù le funi vie e nessuno dice niente il pilota che ha tirato giù la funi via tranquillo hanno pure promosso così funziona che faranno i russi non faranno niente di speciale tirano giù un governo non solo non amico ma addirittura ostile così com'era ostile saddam hussein erano ostili i governi nel nord africa o non erano amici semplicemente gheddafi voleva vendere petrolio in cambio di euro cazzo reato di lesa maestà basta via gheddafi governo amico degli americani no questo faranno come nella logica degli ultimi 70 anni l'occidente intero ha ha insegnato quindi tutti coloro che si meraviglieranno di questo o sono affetti da ritardo cognitivo o sono venduti o sono giornalisti che è una sintesi delle due cose e chi ha voluto tutto questo ma è semplice il bilderberg il bilderberg la massoneria del bilderberg l'occidente intero non solo gli stati uniti ma draghi vi ricordo che è andato otto volte al bilderberg il capo della nato stoltenberg è un membro fisso da secoli al bilderberg chi l'ha voluto ha voluto il bilderberg gli stati uniti l'occidente draghi la madonna maradona e compagnia cantante è tutto molto semplice che non capisce queste cose è veramente affetto da ritardo cognitivo chi crede in mass media non so come direbbe sgarbi una capra un idiota cioè chi crede ai governi chi crede ai governi al governo italiano poi il governo italiano che più famoso al mondo per raccontare balle no dalla p2 tutti la p2 erano tutti l'unico giornalista non venduto che ha denunciato queste cose era mino pecorelli l'unico personaggio veramente conosciuto l'unico vip very important person che ha denunciato queste cose era rino gaetano nei testi della sua canzone c'è tutto e l'unico intellettuale che ha mai denunciato queste cose cosiddetto intellettuale è stato pasolini che ha previsto del grado antropologico degli italiani così è stato italiano dopo dopo la cina e la specie umana quella più affetta da ritardo cognitivo ecco d'ardia adesso con tutti gli annessi e connessi batta